a via tutti legionari sono alessio pcm vi do il benvenuto il bentornato sul mio canale e oggi continueremo la nostra campagna su victoria 2 con la nostra carissima scandinavia prima di ringraziare ragazzi vi ringrazio per i commenti a cui andrò a rispondere fin da subito allora uno mi dice continua le relazioni con i confederati e costruisci altre fabbriche tranquillo lo andremo a fare anche se ho il dubbio che i confederati non reggeranno ancora molto però c'è il messico che sta attaccando gli stati uniti quindi non è detto non è assolutamente detto se guardiamo le guerre in corso vediamo che c'è una guerra di liberazione per il nevada aiuta orca miseria e c'è la guerra civile americana che è a un punto di stallo cioè vediamo molto chiaramente che gli stati confederati sono in difficoltà in compenso però il messico che nella nostra sfera di influenza sta facendo un culo allucinante agli stati uniti quindi gli stati uniti potrebbero essere troppo concentrati sul messico per riuscire a sconfiggere i confederati molto interessante come cosa e questo era il nostro caro dezzana da 96 che me lo diceva poi alexis mi dice si scusa per non essere attivo sempre tranquillo e dice che serve qualcuno per aiutarmi contro la russia sì non in questo momento però sì per il fatto delle alleanze ne abbiamo già parlato abbiamo già detto che è tosto farle al momento simone le donne mi dice costruisce spacca sta russia e prova a fare spedizioni definisci le spedizioni intendi le spedizioni quelle alla scoperta dell'africa cosa intendi non non riesco a capire poi andrea mi dice siccome non ricordo male gli usi in questo periodo non erano dei megalomani della democrazia fatta la mica così hai un alleato potente contro i russi potente non tanto come possiamo vedere vedo che il messico si è mantenuto bene non succede spesso dice bobo vero vero sono d'accordo di solito il messico patisce un sacco contro gli stati uniti che in poco tempo riescono praticamente ad arrivare a città del messico che in realtà non so neanche dove si trovi penso che sia verso più o meno quasi a equa ok ero convinto che fosse qua invece no è qui comunque di solito gli stati uniti effettivamente riescono a scendere molto poi c'è roger che mi chiede dove ho trovato la traduzione quale traduzione stai parlando di victoria non c'è la traduzione qua perlomeno io non l'ho messa ok poi mark manuel invece ci dice che dovrò fare il voto universale perché non potrò sempre silenziare il popolo inoltre dovrei tassare di più i ricchi e meno i poveri sì e no non è ancora il momento considerate che i poveri poi naturalmente gli andrò ad abbassare le tasse ma all'inizio sono quelli che mi servono di più per il budget a parte il fatto delle tariffe che mi costano un'ira di dio mentre elbo tu mi dici che sto spendendo molti soldi per le navi che forse per quello che ero in deficit no in realtà no perché la costruzione ormai è finita qui teoricamente dovremmo essere a posto così però non lo so magari mi sto sbagliando ok adesso controlliamo un attimo le nostre sfere di influenza a ragazzi vi dico che ci saranno un po più di tagli in modo che riusciamo ad andare più spediti come potete vedere in tutte le campagne sto cercando di farlo in modo da andare decisamente più spediti allora in egitto ok sta andando bene in sfere nessuno rompe le palle in messico stessa cosa mecklenburg c'era la nostra sfida contro i prussiani che ho il dubbio che ci banneranno però in comprensa però siamo riusciti a diventare amichevoli e questa già è una buona cosa olanda olanda ci sono ci sono i cazzo di inglesi che rompono le balle ma noi gli diminuiamo l'opinione un'altra volta ok poi dovremmo fare qualcos'altro e poi abbiamo la spagna in cui anche qua ci sono i carissimi inglesi che rompono le balle vabbè agiremo successivamente nel frattempo vedo che abbiamo anche dei ribelli e questa è una bella rottura di balle però a un esercito ho assegnato il massacro dei ribelli si potrebbe dire come potete vedere infatti a hunting rebels abbiamo ricercato i rifle nuovi che ci permetterà anche la sottoricerca delle colonial negotiation nel 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 non lo so in ogni caso sarà fra un bel posto non sbaglio perché quella ricerca oddio in realtà missions to civilize l'abbiamo già fatta quindi potrebbe anche non essere tra moltissimo la la colonizzazione dell'africa adesso non mi ricordo bene ma penso che sia ecco ci manca solo colonial negotiation che è una sottoricerca di branch loaded rifles quella che abbiamo appena fatto e non mi ricordo quando è sbloccabile però sinceramente ragazzi dovrebbe esserci scritto in realtà noi adesso abbiamo tutti un bel po' di bonus teoricamente che ci no non abbiamo bonus che ci permettono di di averla più facilmente in ogni caso è entro il 1870 forse o comunque giù di lì che dovrebbe iniziare e allora nuova ricerca che ci servirebbe in questo momento facciamo l'empirismo che ci aumenta del 50 per cento i punti di ricerca decisamente come avete sentito dal suono abbiamo anche reclutato un'altra nave con i soldi siamo messi malissimo abbiamo un debito che sta davvero impennando vado a togliere tutti i fondi all'esercito perché sennò ragazzi qua non ce la capiamo più prova ad abbassare le tariffe che magari sto distruggendo l'economia con queste e vediamo se riusciamo a ristabilirci ragazzi se no devo decisamente disbandare delle unità perché non ce la capiamo più stiamo spendendo molto sui sussidi industriali andiamo a togliere i sussidi a tutte le fabbriche ok ok magari le fabbriche licensieranno un po' in questo momento però non me lo posso decisamente permettere perché come potete vedere mamma mia mi sta andando via la voce dicevo scusate il taglio ma mi sta mandando via la voce tantissimo allora stavamo spendendo un casino sui sussidi industriali e non so perché ma le nostre spese sono altissime quindi andiamo ad abbassare anche la spesa sulla difesa ok cominciamo a ripagare in parte il nostro debito ok e adesso dobbiamo assolutamente sanare il nostro debito se no qua ragazzi non ce la capiamo decisamente proprio no proprio proprio no in ogni caso in ogni caso vediamo quanto stanno licenziando le nostre fabbriche adesso che non le stiamo più sussidiando teoricamente quello è il concetto dell'economia libera ragazzi con l'economia libera le fabbriche sono autogestite e se non producono decentemente licenziano operai o comunque fanno quello che fanno normalmente le fabbriche durante in un sistema economico libero e come potete vedere infatti abbiamo dei craftsmen che sono disoccupati al momento e questa è una pessima cosa c'è da considerare anche che con le tariffe distruggiamo le nostre industrie perché gli costruiscono di più i beni che importano quindi fatemi fare un po' di tentativi per abbassare ancora le tariffe e vedere se riusciamo a migliorare un po' la situazione toh provo a portarla al 50% no ho detto 50 beh non vedo un miglioramento sostanziale adesso ma magari col tempo la nostra economia migliora ok ragazzi adesso faccio andare un po' il tempo mentre aspettiamo di vedere come si sviluppano le cose hey hey ragazzi siamo stati bannati dal Mecklenburg ma cosa ci aspettavamo tra l'altro c'è da considerare che i prussiani hanno fatto degli investimenti buoni nel Mecklenburg probabilmente perché se lo vogliono annettere noi invece siamo in una situazione economica decisamente disastrosa e anche il mio tentare di alzare lo spending sull'unità di terra non è servito a niente e quindi lo devo riportare a un 5% che ragazzi è pochissimo in caso di guerra saremo messi davvero male sto continuando a cercare di abbassare le tariffe per vedere se le nostre industrie riescono a reggere però è tosta come cosa tra l'altro non posso neanche riaprire le fabbriche che stanno chiudendo i nostri capitalisti perché costa di soldi aprirle riaprirle e quindi ragazzi è mi sto molto mordendo la coda i disoccupati sono saliti tantissimo cioè guardate 40.000 persone che hanno perso il loro lavoro e che probabilmente andranno a migrare infatti c'è un'emigrazione fortissima e ragazzi è perché io decisamente ho sbagliato ad agire adesso riprovo a sussidiare le fabbriche vediamo se oh mamma rifiniamo malissimo qua rifiniamo malissimo alziamo al 50% le tariffe è una situazione economica disastrosa la nostra decisamente però almeno adesso l'emigrazione è leggermente diminuita speriamo che questi qua si spostino in altre regioni e che non emigrino poi queste fabbriche che hanno chiuso noi riproveremo ad aprirle ma fra un secondino tra l'altro vedo che in Olanda ci sono nuovamente ribelli che ci rompono le balle proprio della serie tanto per cambiare miglioriamo le relazioni con l'Egitto che si sono deteriorate anche con il Messico si sono deteriorate con l'Olanda no fortunatamente e miglioriamole ancora con la Spagna così andiamo a spendere un po' di questi punti poi voi mi parlate ragazzi tanto del punto di vista militare che sto facendo poche guerre e lo so però guardate che economia disastrata che abbiamo in questo momento pensate a una guerra come ci potrebbe conciare e qua non ci sono le riparazioni in guerra qua la guerra costa appunto e basta noto anche con dispiacere che siamo passati a settima potenza e questa cosa effettivamente è bella bruttina vabbè vediamo un secondo ancora come si sviluppano le cose ragazzi una cosa che mi devo assolutamente ricordare è che se le fabbriche chiudono tutti gli upgrade che abbiamo fatto se ne vanno al diavolo quindi come potete vedere abbiamo ancora un bel po' di gente disoccupata proprio per questo motivo in compenso sto riaprendo le fabbriche e sembra che l'economia si stia leggermente riprendendo in ogni caso penso che sia decisamente arrivato il momento di fare qualche altra ricerca dal punto di vista o del commercio o della dell'industria penso che andremo a fare l'industria con 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 chip steel questa qua decisamente high and low pressure steam engines che sono le steam engines sono le macchine a motore ad alta e bassa pressione ci aumentano la produzione sia agricola che mineraria una del 10 e l'altra del 15% e decisamente ci serve la facciamo tra l'altro come al solito appena scoppiata una influenza in scandinavia e wow che bellezza oh molto bello ragazzi anche si può anche firmare la convenzione di genova di genova si di ginevra scusate che ci aumenta in maniera fissa l'infamia di 0,01 però la war exhaustion scende di 0,02 al mese e l'organization regain rate è del più 5% al momento a noi non ci serve e penso che per il momento non la firmeremo in compenso abbiamo altri reazionari che rompono le balle molto male molto molto male i giacobini vedo che rompono ancora le palle ottimo e sapete che vi dico sapete che vi dico che noi adesso andiamo decisamente a cambiare il nostro sistema di voto lo facciamo solo wealth e non più weighted wealth olè olè adesso le ideologie dei votanti sono decisamente più liberali considerate che l'opinione della gente è ancora molto conservatrice e penso che sia dovuta anche ai citi bassi che tendenzialmente sono sempre anche abbastanza conservatori c'è da dire tra l'altro oh guardate che cosa bella stiamo rilottando in Mecklenburg contro i prussiani guadagnano più punti loro però oddio in realtà siamo lì siamo lì ma mi sa che che ci buttano fuori un'altra volta la cosa migliore sarebbe che ci scheridi di no? così almeno riusciamo a a togliergli dalla sfera però non penso che lo faranno in ogni caso possiamo anche aprire un'altra fabbrica che era stata chiusa ovvero questa qua dei bicchieri come potete vedere stiamo ricominciando a pagare i sussidi in maniera sostanziosa però vabbè è una cosa che mi aspettavo e che a sto punto non era neanche quella a distruggerci oh e un giorno abbiamo guadagnato tanti tanti soldi chissà a cos'era dovuto tra l'altro ci sono progetti in corso ferrovie da costruire e una fabbrica d'armi ve le lascio finanziere a voi sinceramente nuovo partito politico union social socialisterna e che cazzo sono ragazzi? andiamo a vedere un attimo questo nuovo partito politico non riesco a scendere aspettate union ah sono i socialisti ragazzi che sono protezionisti poi sono per il capitalismo di stato e questo è molto interessante quindi sono essenzialmente come come i nostri conservatori religione secularizzata mamma mia quindi la religione non è esplicitamente parte della politica di stato ma lo stato ha le sue tradizioni religiose molto stretti diciamo full citizenship per tutti e aumenta anche il ratio di assimilizzazione e un anti-military sarebbe un ottimo partito se non fosse per quel anti-military che ci andrebbe a colpire ancora più pesantemente di quanto ci colpiscono le altre cose poi fabbrica di vestiti è stata costruita gli anarcho liberali hanno cominciato una rivolta grazie per l'informazione si è andato a fermare gli anarcho liberali mi ha fatto un favore sinceramente c'è morto un leader militare ottimo 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 andiamo a togliere il tutto e siamo in positivo finalmente siamo in positivo l'abbiamo costruite ovunque le ferrovie ora che ci penso no non l'abbiamo fatto quindi direi che andiamo ad ampliare ancora un po' le ferrovie gli introiti si stanno ristabilizzando e questo mi piace molto anzi una cosa che sono assolutamente intenzionato a fare è continuare ad abbassare le tariffe perché voglio arrivare a togliere le ragazzi probabilmente sono anche quelle che ci aiutano a distruggere l'economia perché come vi avevo già spiegato in questo gioco le tariffe non funzionano come nella realtà ma sono essenzialmente solo dannose sono un modo per raccattare soldi velocemente ma che alla lunga ti distrugge letteralmente in ogni caso qua ho appena fatto una stronzata andiamo a vedere un secondo dal mecklenburg ci hanno ributtato fuori sti stronzi ok l'hannover è sempre in sfera questa è in sfera e ragazzi qua sarà tosta qua sarà tosta a sto punto sapete che vi dico ah cazzo il marocco è in sfera inglese quindi questo vuol dire che sono protetti se no ragazzi avrei iniziato una campagna contro il marocco decisamente vabbè che potrei iniziarla contro il socoto però la conquista del socoto non so neanche quali bonus ci possa portare però sarebbe interessante vediamo quanto ci costerebbe un un conquest allora 5 di infamia per una delle regioni del socoto il socoto è diviso al momento in 3 regioni forse se non avesse questo colore quasi invisibile beh comunque sono sono un po' di regioni quindi direi che cominciamo a giustificare con il socoto per farci una bella guerricciora lì che dite e in compenso allora navi da trasporto vediamo come siamo messi allora a parte il fatto che per arrivare fin là ho il dubbio che perderemo delle navi però possiamo provarci allora abbiamo 12 navi da trasporto quindi questo vuol dire che possiamo trasportare uno dei nostri eserciti allora uno dei nostri eserciti là in fondo a questo qua gli togliamo questo vediamo se è supportato qui ok è supportato allora questo esercito lo andiamo a portare qua e poi lo imbarcheremo bene ragazzi siamo riusciti a fare anche la nuova ricerca che come potete vedere ci ha bustato un pochino i nostri introiti e sono molto contento perché come vi avevo detto eravamo messi davvero in una situazione catastrofica e dato questo forte aumento degli introiti dimezziamo ancora una volta le nostre tariffe o meglio togliamo un altro 15% poi andiamo a fare fin da subito un'altra ricerca che direi che potrebbe essere produzione meccanica non è per niente male però c'è anche la steam turbine che non è da buttare sinceramente mi tentano entrambe andiamo a fare subito la steam turbine che suona anche così bene quindi ci dedichiamo un'altra volta alla tecnologia diciamo o meglio al reparto industriale poi vedo che stiamo incoraggiando un bel po' i capitalisti in una delle nostre regioni allora capitalisti ok dov'è che lo possiamo togliere dallo slandet molto bene le nostre fabbriche sono tutte aperte stanno lavorando anche decentemente c'è da dire e questa è una cosa che mi rende molto contento quella di vestiti soprattutto sta andando davvero davvero bene è forse la fabbrica che ci sta fruttando di più ed è per questo che penso che che lo andremo decisamente ad ampliare ampliare ci costerebbe mamma mia altri 10.000 oh oh proprio un costino niente male va bene però lo andremo a fare e allora dove andiamo a pompare i capitalisti gotland vestlandet si no ok andiamo a pompare ancora i capitalisti qua poi il nostro esercito lo abbiamo portato finalmente qui però non mi sono messo a giustificare perché sono un idiota va bene andiamo a spostare questi qua ok sperando che non ci affondino tutte le navi nel frattempo potremmo fare altre riforme voto universale in realtà lo pesato universale lo vuole poca gente al momento i giocobini rompono ancora le palle si un pochino un pochino però è molto interessante come si sta sviluppando dal punto di vista politico questa campagna secondo me ragazzi e allora avevo detto che avrei conquistato qualcosa in africa e quindi abbiamo deciso che è il sokoto però dobbiamo farci naturalmente come su EU su EU facciamo le claim qua facciamo il justify concessione concessione e ole e ole così questo ci faciliterà anche la colonizzazione in questa zona in quanto ci darà molti più punti decisamente ole abbiamo aumentato il consumo possiamo ricominciare ad alzare leggermente le spese militari siamo già stati beccati ottimo abbassiamo ancora un pochino le tariffe i nostri introiti stanno decisamente scendendo ok ok andiamo ad ampliare la fabbrica di vestiti no non posso ancora devo aspettare ancora qualche giorno militare l'ho alzato di troppo lasciamola al 10% al momento ok via la fabbrica di vestiti probabilmente avremmo preso qualche soldo di debito infatti lo immaginavo abbiamo guadagnato l'umiliati casuspelli contro il Siam cioè ma perché tra l'altro se notate questo boom nei guadagni è dovuto al fatto che quando costruiamo secondo me la nostra fabbrica di cemento lavora finalmente penso che sia dovuto anche a quello che vendiamo le scorte o qualcosa del genere in ogni caso ripago subito il nostro debito dato che abbiamo questa occasione unica faccio ripartire poi la giustificazione sarà pronta fra non tantissimo fra 38 giorni i socialisti perdono 2 di consciousness e i socialisti guadagnano 4 di militanza oppure tutti gli strati ricchi in Svejland 2 di militanza e 2 di consciousness mamma mia non lo so sinceramente ragazzi no 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 preferisco che i ricchi prendano militanza sinceramente ma non voglio danneggiare chissà quanto i socialisti sarebbe anche interessante diventare una repubblica socialista diciamo l'unica cosa che vi ho detto che secondo me sarebbe una rottura di balle allucinante fantastico malus sui casus belli è il fatto che sono anti militari e già noi siamo messi in maluccio dal punto di vista militare aie ci stanno già rompendo le balle in olanda molto male molto molto male mecklenburg siamo bannati mi ero dimenticato di togliere tutti e questa è una pessima cosa nell'impero del messico ok nessuno sta rompendo le palle scusate ragazzi ma ogni tanto lo devo controllare questo e in egitto ci sono gli inglesi che rompono ottimo 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 il nostro esercito nel contempo è sbarcato vorrei sapere cosa c'è in questa zona è l'esercito del Sokoto quindi andiamo un attimo sui ledger andiamo qui allora il Sokoto il Sokoto a parte il fatto che dovrebbe essere tecnologicamente schifoso quindi dovremmo massacrarli però 9 brigate 27.000 uomini non sono pochi ragazzi decisamente non sono pochi però dovremmo riuscire a massacrarli l'unica cosa è questa questa guerra ci farà decisamente finire in debito adesso spero che alzando questo riusciamo a reggere ma non penso no decisamente no ragazzi se lo metto al 100 mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia messi male forte tra l'altro ho deciso che le nostre navi potenti le andiamo navi potenti per l'amor di dio le nostre navi ancora in legno le andiamo a togliere sono le più grosse della nostra flotta però le potremo sostituire fra non poco e nel frattempo non ci spendiamo niente tra l'altro se il Sokoto fosse di un colore migliore sarei anche più contento perché così è davvero una rottura di balle fatemi spostare le nostre truppe là ragazzi con questa guerra finiremo decisamente in debito ok siamo vicini siamo vicini ok molto bene molto molto bene speriamo di non essere massacrati dal Sokoto se no siamo messi malissimo che regione ci prendiamo beh naturalmente vorrei una di quelle più grandi però 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 vediamo un po' Sokoto Benin Nigeria e East Houseland e poi c'è quest'altra che è il Sokot Houseland allora risorse già che in questa c'è il cotone mi va bene già che qua c'è il cotone mi andrebbe bene però non è non è loro quella quindi ok East Houseland voglio East Houseland che comprende questo ok sarà una conquista un po' un po' stupida ma magari riusciamo anche a chiedergli in un'unica guerra più roba quindi non disperiamo troppo fatemi sprecare altri punti ah tra l'altro ragazzi vedo che abbiamo sforato col tempo molto male molto male ole qua possiamo già fare qualcosa fatemi controllare un secondo no non possiamo fare niente e allora dichiariamo questa cazzo di guerra al sokoto e la condurremo nel prossimo episodio East Houseland era quello che volevamo noi e voilà abbiamo dichiarato guerra al sokoto e allora vediamo un attimo se ci spostiamo nei loro territori andiamo a vedere un secondo quanto attrito soffriamo tra l'altro il loro esercito è tutto là sopra soffriamo un 2% d'attrito ma è dovuto al fatto che stiamo occupando se non erro quindi andiamo a spostare questi 5000 uomini qua no non tutti ok poi ragazzi nel prossimo episodio continueremo questa guerra nel frattempo voi commentate ditemi cosa pensate di quello che abbiamo fatto in questo episodio ditemi se pensate che questa guerra sia uno spreco di soldi un suicidio o che so io e ragazzi a via tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di questa nostra campagna con la scandinavia e scusatemi ma non ho fatto tanti tagli perché non mi sembravano necessari o non ho trovato il momento giusto per farli o porca miseria qua ci sono questo territorio occupato che rottura di balle in ogni caso ragazzi a via tutti ci vediamo nel prossimo episodio di questa nostra campagna di questa campagna